Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal, un promotore anticiclonico che interessa tutta l'Europa centrale e garantisce anche sulla Liguria giornate stabili e soleggiate. Dalla serata di giovedì fino alla mattinata di venerdì l'avanzare di un fronte freddo in discesa sulla nostra regione determinerà un aumento delle nubi con possibili deboli fenomeni associati e un calo delle temperature. Nuovo miglioramento per il fine settimana. Il dettaglio oggi mercoledì 18 novembre sereno e terzo per tutta la giornata con venti in prevalenza dai quadranti settentrionali inizialmente moderati in calo fino a deboli in serata. Mare poco mosso, temperature massime stazionari e lungo la costa tra 19 e 21 gradi nelle zone interne tra 13 e 20 gradi. Domani giovedì 19 novembre sereno con deboli foschi al mattino sui versanti padani e isolati addensamenti dei nubi basse sul centro ponente. Venti deboli meridionali di direzione variabile al mattino rinforzo in serata fino a forti o di burrasca dai quadranti settentrionali. Mare poco mosso localmente mosso a ponente in serata. Temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 7 e 11 gradi nelle zone interne tra 1 e 6 gradi. Massime in diminuzione e ulteriore calo termico nella notte lungo la costa comprese intorno 18 e 19 gradi nelle zone interne tra 12 e 18 gradi. Dopodomani venerdì 20 novembre al mattino nubi medio alte sui settori di Levante con possibili deboli precipitazioni anche a carattere di spolverata nevosa oltre ai mille metri. Sereno poco nuvoloso sul centro ponente. Sereno ovunque dal pomeriggio. Venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali al mattino in attenuazione fino a moderati dal pomeriggio. Mare generalmente poco mosso localmente mosso sui capi esposti di ponente fino a molto agitato a largo. Temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 8 e 11 gradi nelle zone interne intorno 2 e 3 gradi. Massime in diminuzione lungo la costa tra 15 e 17 gradi nelle zone interne tra 7 e 13 gradi. E' tutto seguiti i raggiornamenti su arpal.liguria.it sulla pagina facebook di Arpal e sul profilo instagram dell'agenzia. Risentirci!